Musica Ciao a tutti sono Isaac e siamo qui su MiaSmata È passato un bel po' di tempo da quando ho registrato l'ultima parte e devo dire che mi sono Diciamo ho capito un po' com'è il gioco e ho craftato delle medicine qua per la febbre Quello che avevo era febbre, semplice febbre che mi faceva vedere nero, non vedevo niente La dannata febbre di schifo, tanto qui sembra un tornado questo Comunque siamo qui su MiaSmata e dobbiamo andare avanti mi pare con il gioco Dobbiamo esplorare il resto dell'isola e mi pare che dobbiamo Sì insomma quella è la cosa, quella è la, come si chiama? Non mi ricordo la statua giusto Ah ci vediamo, ciao Sì ok siamo più o meno al centro di questo cerchio, mi pare di aver capito anche la mappa Fatemi controllare meglio Ecco e qua Ecco così se non sbaglio ci si, sì siamo qui Ok Ehm sì ora noi dobbiamo andare dove ci diceva di andare la mappa Se non sbaglio la mappa ci diceva di andare Ecco quale mappa? Questa, ecco la mappa della paluda Dobbiamo andare dritti di qua e poi girare Allora se quello è il nord Il nord, aspetta proviamo a orientarci No questo qua è il Ok È il nord ovest Hmm Nord ovest Noi proveniamo da ovviamente sud est E quindi noi andiamo a nord ovest Però prima devo prendere questa dannata bacchetta Che non si accende Hmm Comunque ho scoperto anche un'altra cosa Qua ci c'è questi, questi cosi enormi Sì sì ok Questi cosi enormi di legna Cioè questi cosi, queste statue qua Posso metterci dentro la legna e fargli prendere fuoco Con la mano E adesso dov'è, dov'è finito il legnetto? Ehm Mettilo dentro Oh là Però eccolo qua Adesso questo qua dovrei riuscire a fargli prendere fuoco no? Se non sono impedito Ah L'ho buttato dentro No Non volevo Scusa Perdonami Ok Sembra che qui stia arrivando un bel temporale Ma chi se ne frega andiamo Questo coso fa un sacco di luce però va bene Andiamo allora Mappa 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 Ecco Ah aspetta Fatemi un attimo capire Ehm Ehm Pa 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 La punta verde È il nord La punta verde è il nord Ok Sembra che la punta verde sia il nord Oh no Sta arrivando la notte Ecco cos'è Hm Se mi potevo portare un qualcosa Ah no È l'ovest 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 È quella punta lì Fatemi controllare Sì L'ovest è quella punta lì Se noi continuiamo ad andare avanti di qua Sbucchiamo nella casetta Lì Ok Eh però noi dobbiamo fare una strada più complessa Dobbiamo andare qui e poi girare di qui Dobbiamo andare avanti Poi dobbiamo andare a Ovviamente quello è Il sud Ehm Ok Oddio Gli effetti veramente sono fantastici Sembrava notte E invece era soltanto una mega nuvola giga enormica Andiamo Allora Ehm Ecco Primo bivio Dove dobbiamo andare Andiamo di qua Andiamo di qua Dai Speriamo che non appaia la notte Adesso No No la notte non può apparire Giusto Sono stupido Ah ecco un'altra statua lì Le statuette sono scritte Queste Ehm Cosa Sono scritte Aia Ho perso Ho perso di vista la La cosa Ah ecco qua Sì 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 Sono scritte Sono quei Ehm Come si chiamano Ehm Quei Quei simboletti là Ok Quindi siamo Sulla strada Sì siamo sulla buona strada Possiamo farcela Dai Isaac non può perdersi Guardate queste Bei Marghe Fiori Marghe 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 pani Marghe Marghe Boh Qui c'è uno di quei cos'è E lì c'è la statua Ciao statua Sempre brutta Però vabbè Andiamo Altro bivio Lì vedo uno scogliattolo Ma Lasciamo stare gli scogliattoli Allora Ehm Dobbiamo Prattica Andiamo di qua Sembra Più Utile Poi devo trovare delle piante Voglio trovare delle nuove piante Da studiare Per poter fare qualche nuova medicina Che ne so Che cosa posso fare con le piante Boh Da No 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 Vai su vai su vai su Bravo Sto gioco Sto gioco c'ha anche un Un Una meccanica di caduta Chiamata così In pratica Io premo soltanto una volta avanti Guardate cosa succede No Due volte avanti Va da solo In pratica si scivola È una cosa grandiosa Addio Allora Andiamo di qua Cosa c'è qui Allora Vediamo Ehm Dobbiamo trovare l'altra strada Che mi pare che fosse quella giusta Fa vedere Dov'è l'altra strada 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 Rallenta Rallenta Pazzoide Ok 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 Ho capito Ho capito che sai correre Sì 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 Dai corriamo Corriamo Fai come vuoi Ecco questa è la strada giusta Mi pare Laggeggia Ecco qua Questa è la palude Se non sbaglio Perché vai dentro Vabbè Vediamo un po' Dai Ok Non posso Prendere niente Ci sono rane Teschi Anatre Ma non c'è Un dannato fiore Posso prendere sti cosi Nine Ah un bastoncino Un bastoncino Può servirci Può servire Tipo I solenoidi Su scary movie qua Ok ci siamo Andiamo Mi sento sicuro Con un dannato Uh Sembrano dei funghi questi Perfetto Abbiamo scoperto dei funghi Funghi Blu Blu Funghi blu Perfetto Andiamo a scoprirli Dobbiamo andare Velocemente Che bello Chissà cosa faranno sti funghi Hmm Oh Oh Perché lagga Un attimo Fatemi controllare Le sistemi Le sistemi Che si Le Cioè Ah ecco perché Dei nini Magni Che sono Oh là Oh là Si vede molto peggio Ma Non lagga più Ok Ok allora Ciao Eh Nessuno mi ama Allora Cosa c'è qui C'è un'altra strada Ma questa non è segnata sulla mappa Fa vedere No Più o meno noi Dovrebbe esserci Un'altra Cascata Qui No un'altra cascata Un'altra No sta Sta per spegnersi Prendiamone una nuova Ecco qua C'è Ci dovrebbe essere Un'altra Torro Come si fa a chiamare No aspetta Dov'è No 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 mi sto perdendo Allora Non voglio perdermi Eh Non cadermi Non cadermi Bravo Perché se andiamo troppo velocemente Mi cade quel tizio Oh Io non posso andare di là Non posso notare Ciao statua Aspetta La statua è lì Giusto Fammi controllare Ecco Noi dovremmo essere Qui sotto Maledizione Abbiamo tagliato la strada Dovemmo tornare dentro O se no possiamo benissimo fare così Andiamo Eh Andiamo 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 Butta via sto coso Mi dà fastidio Ovviamente il fuoco non si spegne Si spegne dopo un po' Oh Eccola qua la statua Che stavamo cercando Qui ci dovrebbe essere anche la casa Quella là Sì Quella No Non c'è Statua Ok Allora Dunque Questa è la statua E mi serve un altro Pezzo da riconoscere Quella cosa No Me stesso No Posso zoomare Nine Vabbè dai Allora ci siamo trovati Non vorrei andare in acqua Non posso neanche ancora nuotare Andiamo Su Da questa parte ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi Wow Cos'è sto coso Ma Andiamo su Andiamo su Andiamo su Ok Allora Noi dovevamo 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 sbucare Da questa strada Eccola la Eccola la Aspetta Fatemi un attimo Segnare Qui E Qui Così almeno mi trovo Dove sei? Qui Trovami 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 Tadà Ecco Eravamo un po' fuori Un po' fuori dalla strada Un attimo però Ah ok No Ho scoperto soltanto L'acqua calda Andiamo di qua Dobbiamo scoprire Cosa saranno Sti funghi Blu Allucinogeni All All Lululu Andiamo 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 Velocemente Ciao Ehi Boh Mi stavo andando da solo Oddio Ma so E' ancora più brutta Dell'altra questa Ok Eccoci qua La nostra meta Possiamo Eccolo qua Vediamo un po' Cosa saranno questi Funghi Funghi Quello che è Taglia taglia Metti qua Tira su Destra Sinistra Praticamente lo stiamo esaminando Ora per capire cosa fa Una volta sintetizzato Mi pare No Non credo Sì Una roba del genere Cosa fa Cosa fa Dimmi Mental Stimulate Ok Stimula mente Perfetto Ok Quindi questo portiamo Ce lo potrebbe esserci utile Perché vi Ah no Posso posizionarlo qui Questa è tipo una delle Come si chiama Le chest di Ossidiana L'ender chest Di Minecraft Se lo posizioniamo qui La troviamo anche dall'altra parte del pianeta Ok Qui cosa abbiamo Abbiamo Una frutta E una Tazza Che sta prendendo in un modo stranissimo Butta via Vediamo cos'è questa A letter Form Oh Un altro viaggetto Dovevamo fare Venga Qui sembra essere molto abitato Quindi credo che andremo qui Però qui c'è qualcos'altro Ehm Ehm Offergen di Y De antitoxio Ehm Bioluminescente Un'alga bioluminescente Opus Statua Ehm Ehm Sono Sono le 4 di sera Forse ce la facciamo Si ce la facciamo Fare un viaggetto Mi sa di si Però devo trovarmi adesso Posso trovarmi Si Ok Stiamo guardando verso Ah ecco Il verde indica Dove stiamo guardando Ok E noi dobbiamo andare di qua Quindi dobbiamo seguire la strada Questa strada Seguiamo Il sentiero Ok Ora Non dovrei più vedermi Infatti Ehm Mi sono già perso Mi serve qualche punto di riferimento Forse era meglio se seguivamo L' L'acqua E poi Sbucamo fuori qui Ehm Non lo so Sono Sono veramente un pessimo Cioè Non so orientarmi In pratica Pensavo di riuscire ad orientarmi Piuttosto bene Ma invece Invece No Allora Qui cosa c'è No Ah ecco qua Cosa c'è qui È il Ehm Oddio ma lì ci sono delle rovine No Non ci sono delle rovine Qui non posso segnalare niente Vuol dire che non c'è niente Questo sentiero dunque Qual è? Sarebbe Questa parte Da qui A qui Così velocemente Avremmo fatto una scorciatoia Sì dai Siamo qui dai Speriamo di non Eh sì Quelle sono delle rovine Eh dai È già stanco Siamo dei Dei dannati Affati con la Lenti Titi Sento una cascata Ah no Non sento una cascata Ciao statua Come stai? Perché Non posso segnalarla Boh È un po' una stupidata La cosa che possiamo segnalare Le statue Che abbiamo soltanto nella mappa Tipo questa Posso segnalarla Ma non posso segnalare quella Là in fondo Perché Non è nella nostra Stato Non è nella nostra mappa E Li vedo dei fiori Andiamo a prendere i fiori Fiori Anche lì Fiorellini Belli Ah ok Prendiamo questi fiori Prima Anche lì Oddio Siamo pieni di fiori Fiori Cosa sono? Cosa sono? Eh Yellow Ok Dobbiamo Controllare Guardate quanti Diamine di fiori ci sono qua Siamo nel paradiso Dei fiori Siamo a due Possiamo prenderne Soltanto due O quanti? Quanti ne possiamo prendere? Questi sono Quelli di prima Ecco Quelli sono diversi No Anche questi sono uguali Ok Questi sono uguali? No Sì Sono uguali Ok Abbiamo fatto rifornimento di Cosi E verso le rovine Le rovine Le rovine Le rovine Fa vedere un po' Ci sarà qualcosa? Sembra un ponte Fammi controllare Fammi contro- No 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 Sta fermo sta fermo sta fermo sta fermo sta fermo sta Diamine ma perché non sa camminare sto tizio allora Ah 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 non toccare la cosa nei fiori vanno via Aiuto aiuto Torniamo su Torniamo su Torna su Diamine Non è mai stato così difficile Uh nuovi fiori Nuovi fiori Nuovi fiori fa vedere un po' Ok Abbiamo un mazzo di fiori ormai Dunque Posso Ecco lì c'è qualcosa Ok Ah ecco c'è Ecco dove siamo Vedete quello È il È quello Quindi noi più o meno siamo qui Siamo qui sotto Sono Assettato Dammi un attimo che Trovo la statua Ecco la statua Ed ecco la statua è lì E noi siamo Qui Ok Da tutta altra parte Oddio Allora Prendiamoci qualcosa da bere Glue 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 Ok Ho notato che Questo gioco è ancora in beta C'è uscito su steam Quando era in beta Una cosa fantastica L'importante è che Ci aggiungano roba Perché Non è che ne manca E che Si ne manca E che Si per il momento è molto buono Come gioco Come hai detto tutto però manca roba ho visto un po su internet non ho visto tutto perché ovviamente non voglio spoiler spoiler armi niente però non si può neanche mangiare per dire un survival dove non si può mangiare chiesto qua allora allora via 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 e via quindi non si può neanche mangiare si può bere ma non si può mangiare questo un po una cosa strana e stupida allora ok questa dovrebbe essere la strada verso il dorado li vedo altri tipi di fiori sono delle pannocchie che non si possono prendere ok ah dice qualcosa altro no non è nella nostra mappa perfetto andiamo di qua andiamo verso la nostra casa un'altra statua lì e qui c'è una casa siamo già arrivati impossibile non vedo neanche l'acqua ah ecco no noi siamo qui più o meno siamo qui adesso abbiamo fatto questa enorme curva qui credo che cosa ci sarà qui lì ci sono le rovine e qui c'è una casa una casa sconosciuta andiamo a vedere cosa c'è per me so diamine è il paradiso questo guardate sono i funghi di super mario diamine non posso portarne soltanto tra io a quale prendiamo 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 il fungo si perché siamo venuti a prendere tutto poi il rosa se non sbaglio serve soltanto a fare le medicine quelle la sintetizzate se non sbaglio fa vedere ce l'ho ah ci siamo trovati ok così a caso allora no fatemi vedere qua note no non è note è research ristris riserci o quello che ecco come vedete qua ho fatto le medicine però eeeeh beh beh non c'è una pagina in più no ok questa no questa no io voglio sapere eccole qua white pink viola ecco basic sì dovrebbe essere questa white pink no ah non lo so vabbè dai teniamoci ehm teniacci queste dai che quella mi pare e poi guarda guardate qua ah no queste sono qua ah mi sto impappinando impappinando diamine c'è troppa roba c'è troppa roba mi toccherà tornare indietro dopo fare un secondo giro ok dopo torneremo indietro anche lì ci sono i fiori guardate diamine è pieno diamine non mi tocca fare tre giri ormai perfetto beh dai sto c'è ho appena finito di dire che in sto gioco manca roba e guardate qua cosa mi trovo mi trovo il mondo beh a parte che sono in un mondo questa strana un mondo laggoso ho delle tende delle tende è questa la nostra destinazione fatemi vedere speriamo di sì posso segnalare lì no lì sì e uno e speriamo che al fianco posso no qualche altro indizio ah lì ah siamo qui ok e non ci sono non ci sono cause previste nella mappa vediamo cosa c'è qui lagg parte la musica ecco qua il mio fungo ecco portiamo qua tutto quanto e adesso andiamo a prendere le altre cose e poi le esaminiamo con calma qui posso sintetizzare qualcosa no però c'è un pezzo di mappa vediamo un po cos'è questo lo leggerò dopo ovviamente andiamo presto prima che inizi la notte vai prendiamo questo e ok abbiamo trovato questo questo l'abbiamo già trovato e dove vai te sto personaggio va avanti così ma eh sì dai avanti torniamo indietro a prendere la roba dov'era? qua? sì un po' più avanti qua il problema è che abbiamo soltanto due spazi ancora nella tavola degli incantesimi quindi non so cosa portare prenderei queste e i funghi ok e queste sono tutte cose nuove ah sono uguali a queste ok prendiamo i funghi no i funghi li abbiamo presi prendiamo questi ecco fatto abbiamo preso tutto abbiamo preso tutto si perfetto andiamo sta anche diventando note fatemi controllare che ora sono sono le sette e mezzo andiamo 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 ehi perché torni indietro? eeeh ok non ho capito cosa serve la bussola di sicuro si tratta di un no un sistema di un si si di un sistema di orientamento che forse non mi salta in mente in questo momento e quindi oddio no no maledizione il telefono ok credo che dovrò finire qui la porta anche perché abbiamo fatto due tappe in una in una come si chiama in un video solo noi ci vediamo alla prossima ciao e alla prossima